Opel A Oggi la viene proposta con un motore tre cilindri aspirato in alluminio di un litro da 75 cavalli e 95 Nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale a cinque rapporti. Si tratta del propulsore più potente della sua categoria, capace di garantire discrete prestazioni e consumi contenuti ed è stato ottimizzato per la silenziosità. Opel Carle è già ordinabile in Italia e debutterà ufficialmente in concessionaria domenica prossima con un prezzo di lancio di 9.300 euro fino al termine dell'estate. Il listino sarà a partire da 9.900 euro. Jeep, l'offerta di Renegade viene ampliata grazie a due nuove motorizzazioni. Il SUV compatto di Jeep è già ordinabile con motore benzina 1.6 e torque da 110 cavalli, cambio manuale a cinque marce e trazione anteriore, e con propulsore 1.4 Multi Air 2 da 140 cavalli con cambio automatico a nove marce, e trazione 4x4, o trasmissione automatica doppia frizione a sei rapporti e trazione anteriore, prezzi compresi tra 20.800 e 32.800 euro. Toyota, lanciata la nuova versione X-Site per la piccola Aigo. Aigo X-Site è caratterizzata dall'esclusivo colore azzurro metallizzato ciano, da dettagli neri per tetto e montanti e da cerchi da 15 pollici. Monta un tre cilindri benzina che emette appena 88 grammi al chilometro di CO2, prezzo di lancio 11.850 euro. Alistino costerà in seguito 13.700 euro. A domani per altre news.